che c'è amore Francesco Totti Francesco Totti glielo mandiamo il video a Francesco Totti ma dove c'è? ma vive? certo che vive ma per sapere c'è? certo che c'è ma ma non posso dire una cosa? dimmi ma è proprio qua? è proprio qui nel mondo? o è solo in televisione? no è proprio nel mondo in quale mondo? è qui vicino qua, sta allo stadio adesso Francesco Totti ma mi ha fatto quasi mi ha fatto la roba ciao Totti ci vediamo presto vero? ma lo mangiamo a Totti lo mangiamo a Totti ciao Di ciao Totti ciao ciao